Le elezioni europee e amministrative su Rete55. Lunedì 10 giugno saremo in diretta dalla sede della provincia di Varese, con ospiti, opinionisti e risultati in tempo reale. Vi aspettiamo in quattro collegamenti diretti alle 15, 17, 19, 20 e 30. Il consiglio è di passare un po' di tempo con noi, per sapere chi ha vinto, per conoscere più da vicino i nuovi sindaci di 77 comuni del territorio, nonché i risultati elettorali delle importanti elezioni europee che eleggeranno i nuovi rappresentanti italiani al Parlamento di Bruxelles. Vi ricordiamo che si vota sabato 8, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Andate a votare e poi nel pomeriggio di lunedì sintonizzatevi su Rete55, canale 88 del Digitale Terrestre, in diretta da Villa Recalcati.